Il problema è stato l'attesa, praticamente dalle sette e mezza fino alle nove rotti e siamo gelati. Ma l'ha trovato quello del lucchetto violetto? Non sono mai andato a tre giorni di seguito in bici, mi hanno dato la chiave, i duroni qua. Tu hai visto che è andata la tuorlotta? E' andata lì dove ci stava. Non tieni presenza della tuorlotta? Vanno! Vanno! Che non so' al povero? Non so' al povero, del frinico a te. Te lo so di rigore. No, ma per te la vittima la loro stessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.